Perché medici ed infermieri possano intervenire in maniera efficace, soprattutto sui pazienti più piccoli, è fondamentale che la diagnosi sia precisa, puntuale e veloce. Un prezioso supporto in tal senso è garantito dall'innovativo ecografo multifunzione che il gruppo Danieli di Butrio ha donato alla clinica pediatrica dell'ospedale di Udine. La misurazione della funzionalità degli organi permette di accelerare i tempi d'inizio della cura, fattore determinante per il successo terapeutico. Dennis Caporale, direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ha sottolineato come l'apparecchiatura si inserisca perfettamente nel progetto della nuova pediatria di Udine, destinata ad essere sempre più punto di riferimento per il territorio in sinergia con le altre strutture. L'ecografo, consegnato alla presenza del vice presidente della regione Riccardo Riccardi, del presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti e della direttrice della clinica pediatrica Paola Cogo, è l'unico strumento del genere sul mercato che dia la possibilità di fare algoritmi di intelligenza artificiale. Professoressa Cogo, una macchina tutto sommato piccola, compatta, che può raggiungere i piccoli pazienti direttamente nella loro stanza, vediamo quattro sonde, ci può spiegare che cosa vi aiuta a fare? Queste quattro sonde ci aiutano a capire bene come funzionano tutti gli organi interni del bambino, in particolare questa sonda ci aiuta a capire tutti gli organi addominali, quindi il fegato, la milza, l'intestino, i reni e quindi se il bambino ha qualche problematica legata a quell'organo, questo strumento ci consente di individuare il problema con precisione ed efficacia. Questa invece è una sonda che serve preferenzialmente per studiare il polmone e quindi tutti i bambini che hanno problemi tipo respiratorio o di ossigenazione ci consente di capire bene la funzionalità del polmone perché il polmone non ossigena bene il sangue e ci serve anche per capire se ci sono delle problematiche a livello muscolare o articolare o degli archi. Questa sonda è una sonda esclusivamente legata alla funzionalità del cuore, i bambini possono avere sia delle malformazioni di cuore che delle alterazioni della funzione, cioè della capacità del cuore di contrarsi e di pompare il sangue, quindi questo è uno strumento particolare che serve per vedere il cuore piccolo del bambino e quindi per capire se ci sono delle malformazioni oppure se non funziona bene e quindi ha bisogno di farlo. Questa è l'ultima sonda che è tecnologicamente molto avanzata che ci consente invece di individuare con precisione dove sono le vene e le arterie dei bambini e siccome dalle vene e dalle arterie noi dobbiamo prelevare il sangue piuttosto che fare le terapie infusive, endovenose, chiaramente una sonda con questa precisione ci dice dove esattamente è la vena e quindi noi possiamo pungere esattamente dove dobbiamo prelevare il sangue senza fare dei tentativi a vuoto e quindi fa soffrire il bambino inutilmente. Un'apparecchiatura importante per la medicina d'urgenza pediatrica ma anche per malattie rare, diceva? Certo, molte malattie del bambino vengono considerate malattie rare perché sono malattie specifiche dell'età pediatrica, quindi ci sono delle malattie più comuni ma ci sono delle malattie molto più complesse che hanno bisogno di essere seguite per la funzionalità di più organi contemporaneamente perché spesso coinvolgono più organi che si scompensano quindi uno strumento come questo che è il letto del bambino oppure in pronto soccorso riesce contemporaneamente a vedere più cose ci aiuta naturalmente a aiutare a curare anche i bambini con malattie complesse e rare. Un altro aspetto importante che rende questa apparecchiatura unica nel suo genere e quindi è particolarmente utile quello dell'intelligenza artificiale, della possibilità di elaborare i dati non solo sul singolo paziente, quindi l'evoluzione della situazione di quel paziente ma addirittura si arriva a dare dei suggerimenti di diagnosi, diciamo così. Certo, questo è l'unico strumento attualmente presente in commercio che ha la possibilità di avere degli algoritmi interni con cui noi riusciamo a utilizzare i dati degli esami precedenti che abbiamo fatto, in cui lui riconosce che sono delle alterazioni di funzione di quell'organo specifico e quindi se ritroviamo gli stessi dati quantitativi, gli stessi numeri, gli stessi reperti in un nuovo bambino che ci arriva nel nostro pronto soccorso, lui è in grado di suggerirci che possibilmente quel bambino ha quella malattia, quindi aiuta il medico a capire qual è la diagnosi. Un'apparecchiatura che ci porta verso il futuro della clinica pediatrica di Udine sono tanti i ragionamenti che si stanno facendo in questo senso. Certo, perché la medicina è innovazione, quindi noi siamo molto attenti a capire quali sono i suggerimenti da parte della scienza, della scienza pediatrica, che possono portare a una migliore cura del bambino e quindi è importantissimo che il medico, l'infermiere sia proattivo nei confronti di queste nuove iniziative, riesca a capirle, a carpirle nel più breve tempo possibile e implementarle nel proprio ambiente di lavoro in modo tale da costruire sempre una medicina che è contemporanea, presente, perché altrimenti se non abbracciamo l'innovazione non riusciamo a curare bene i nostri bambini. Ingegner Benedetti, è stata presentata questa importante apparecchiatura donata dalla Daniele, è stato sottolineato come il suo utilizzo sarà fondamentale per una diagnosi rapida e puntuale a favore di chi opera nella clinica pediatrica. Si è parlato anche di intelligenza artificiale, questa è la grande novità, l'innovazione che consente questa apparecchiatura. Si, mi ha spiegato la dottoressa Paola che la macchinetta, a fronte dei risultati dell'esame, ha dei modelli di elaborazione, degli algoritmi, che si mettono insieme, quindi in sostanza anche pensano, che non sostituiscono l'operatore, ma pensando, gli danno dei suggerimenti, sono selettivi e quindi pongono dei dati e delle deduzioni che facilitano poi la decisione da parte dell'operatore. Quindi sostanzialmente suggeriscono una diagnosi, aiutano, lei sottolineava ancora questa volta l'importanza di prendersi cura dei più piccoli, sottolineando quanto di più piccoli ce ne siano sempre meno. Sì, è vero, ho di prendersi cura anche dei più grandi, ma dei piccoli in particolare che ce ne sono sempre meno, è come accennavo all'assessore Riccardi, impegnatissimo in queste circostanze non facili. Probabilmente il tema famiglia, il tema nascita, piccoli sono pochi, curiamoli, ma curiamoli comunque evidentemente. Poi si tratta, visto che parliamo di piccoli, di natalità, dobbiamo lavorare probabilmente con più incisività per cercare di arginare la crescita continua, perché non solo è bassa, ma tende ad abbassarsi ancora di più, con tutte le conseguenze sociali che questo comporta. Che poi questo si collega alla immigrazione, l'immigrazione è spontanea per una certa quantità, per un'altra dovrebbe essere ragionata, perché dovrebbe essere ragionata anche in un ambito culturale di preparazione per dare un contributo a mantenere il welfare sociale che altrimenti decale e quindi la società diventerà sempre progressivamente più povera. Io non ho questo problema, lei forse può averlo, non so se gli pagheranno la pensione, se continuiamo così. Premesso tutto questo, la natalità va un momentino sostenuta, la Regione lo sta facendo con queste facilitazioni che potrebbero anche essere aumentate, ma io penso che sia, penso, ma sono ignorante in materia, sia un sistema anche di educativo. Negli ultimi 30 anni, 40 anni, in tante forme, è stato dato giù, per così dire, alla famiglia, al concetto di famiglia e probabilmente molti arrivando a 40-50 anni capiscono che una continuità potrebbe essere stata avere dei figli e c'è molta gente che si trova senza continuità e quindi dà meno senso alla loro traiettoria umana. Ma non voglio entrare da elettricista in temi che non conosco, da elettrotecnico. Quindi probabilmente nelle scuole bisogna dare più importanza all'educazione della famiglia, cosa significa avere i figli, cosa significa avere figli nella cornice di una vita umana. Vicepresidente, è importante donazione da parte della Danieli per la clinica pediatrica dell'ospedale di Udine, è uno strumento davvero molto importante sul fronte della diagnosi, quindi un supporto importante per i medici infermieri della pediatria. È un supporto sicuramente per la nostra clinica pediatrica, che è un'eccellenza che lavora all'interno di questo ospedale. Abbiamo sentito la professoressa Cogo spiegarci puntualmente come la puntualità della diagnosi, la velocità della diagnosi che è consentita da questa attrezzatura, ulteriormente eleva la qualità che qui già viene garantita. Oltre a questo però io non posso non soffermarmi sulla sensibilità sociale di Danieli. Ho ricordato, ringraziando l'ingegner Benedetti, altre iniziative che la Danieli ha sostenuto, ricordando come l'intervento di questa grande azienda non è mai banale, perché quando si lavora sulla sanità, quando si lavora sui giovani e sulle scuole, quando si lavora sulla sicurezza del lavoro, questi sono segnali importanti che stringono il rapporto tra le istituzioni e il mondo dell'impresa. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il Covid. Abbiamo visto in questi giorni l'evoluzione dei contagi. Ci si sta riorganizzando anche sul fronte di apertura di nuovi reparti Covid? Noi sicuramente ci stiamo organizzando perché i fenomeni vanno calcolati con un buon anticipo, sperando che il lavoro che tu fai non serva. Però è evidente che l'andamento del contagio è chiaro. Abbiamo tutti imparato che questa è una ruota. Tu oggi ti trovi in una condizione di basso contagio e poi potresti a scapito di altri trovarti in una posizione alta vedendo quello che è oggi in alta ritornare in una posizione bassa. Quindi bisogna essere pronti. Chiaro, il contagio c'è, è più alto di quello dello scorso anno se paragonato al periodo che stiamo vivendo. Vediamo un plateau di questo contagio, perlomeno negli ultimi giorni. Vediamo cosa succederà nei prossimi e soprattutto vediamo una dinamica di contagio diversa che ha una pressione ospedaliera sicuramente differente rispetto al passato dove vediamo che il vaccino comunque fa la differenza. Lei ha ricordato i sette pazienti in terapia intensiva dell'altro giorno. Ieri siamo arrivati a nove. Di questi nove, due sono vaccinati con una condizione di comorbidità importante. Sette persone non sono vaccinate e cominciamo a vedere persone non vaccinate, anche giovani, in terapia intensiva. Quindi questo conferma ancora una volta che sicuramente il vaccino è la risposta importante che voglio ricordare presenta lo 0,008 in termini della complessità dei vaccinati a domanda ospedaliera. Di questo 0,008 lo 0,0001 riguarda la terapia intensiva. Quindi se qualcuno ancora vuole mettere in discussione l'efficacia del vaccino si lega a questi numeri e faccia una riflessione seria sulle scelte che tutti quanti noi dobbiamo fare.